Ancora disagi sui rifiuti a Torre del Greco. L'intera zona del porto, in particolare fra Via Fontana e Corso Garibaldi, è, in tarda mattinata, cosparsa ai cumuli di mondizia. Ci siamo recati sul posto per mostrare la situazione. La prima zona è invasa da rifiuti e nello largo a ridosso delle cento fontane e dei piedi del Palazzo Baronale. Oltre ai soliti sacchetti spiccano per altezze ed estensioni pezzi di legno, probabilmente mobile usato, distrutto e poi abbandonato lì. Le condizioni peggiorano percorrendo Via Fontana e percorrendo soprattutto i vicoli che la collegano con Corso Garibaldi e con il porto. Anche in questo caso possiamo notare sacchetti di ogni tipo depositati ai bordi della strada, ma soprattutto ingombranti di ogni misura, da servizi igienici ai soliti materassi usati fino ad arrivare a copertoni, telai e scarti di officina. I vicoli, già per loro natura stretti, sono diventati quasi impercorribili a causa di questi cumuli che arrivano ad occupare la ridottaria pedonale e la careggiata. Persino il sottopassaggio, sottostante la ferrovia in Via Libertà, è bloccato da pezzi immobili posizionati in equilibrio precario.